ciao ragazzi siamo tornati su fortnite su questo bellissimo gioco prendendo questa nuova idea di rissa squadre abbiamo il nostro carissimo sergente bruma ai ordini sergente bruma allora parto immediatamente senza esclusione di colpi ovviamente con questa bellissima musica disco piccolo taglio ci vediamo in partita modalità abbastanza carina a me piace perché è uno scontro 20 contro 20 ho fatto già una partita l'ho vinta ho vinto 188 semmai con il mio carissimo sergente bruma e un'altra cosa che poi non capisco è questo deltaplano più 50 chissà perché introdurlo potrei metterlo anche illimitato ma vabbè non fa niente mo lutiamo come dei pazzi rubiamo quello che si può rubare e andiamo a combattere si palloncini mi posso ficcare nel culo non ci faccio nulla perché non li so usare ma va bene mi ritengo lo stesso perché devo avere qualcosa partiamo bene va bene questo mi può servire può essere utile ok prendo tutto quello che mi può essere utile materiali in primis ok spacchiamo quello che si può spaccare andiamo a combattere sicuramente si sa come andrà male come partita per fortuna ci sta il respawn e le partite qua sono belle tirate per quello mi piace questa modalità perché sapete io le odio le partite single perché non ci so giocare in single devi costruire dei file che devi dire mamma mia per rischio 100.000 volte che ho più di blackout se dovessi giocare a single vabbè dai passiamo alla casa successiva ho loutato come posso anche se quest'arma la vorrei cambiare perché mi sa è più sulla distanza intanto vai mi metto un bel cecchino se lo trovo no tutte pistole e vabbè dai come non posso rifiutare il p90 dai su accendo una cassa ok non cadere bruma ho parlato di cecchino guardate un poco vabbè me la cambio questo non lo so questo cecchino non fa nulla fa nulla è importante che non c'era un cecchino bene già due non è nulla però eh abbiamo appena incominciato dai ragazzi buona fortuna a noi già tre casse wow è un po' che sto coso che sto coso a che serve stereo portate è la prima volta che lo vedo non l'ho mai usato boh lo prendo anche per curiosità vedete a che serve insomma sono ripenuto dai palloncini ma non so se è utile sto ruotando un poco da questo anche fuori oh un cud vedete se vi do questo da un passaggio no non mi ricordo dove ho messo la schiena verde fratello vuoi un passaggio? vuoi salire o no? mi devi sfuttere vedete che ti appendo me ne vado eh vabbè te la vuoi fare a piedi mi sono fermato apposta dai sali no niente mi devi sfuttere che devi fare? devi salire o no? e baffanculo a cagare bene mi faccio sto qua non per giocare ma per farmi trollare bene faccio pure schifre alla guida andiamo bene l'apprezzamento ce l'ho non posso andare a combattere che cosa è questo? oh mo si ragiona ok questo mi sono stato ludato 6 addirittura eeeh questa non me la posso liberare no? no è deltaplano che è oh l'ho eliminato prima la kill grande mi sta laggando eh bene cominciamo anche bene una grande kill se non c'è mai dovrebbe spawnare però sulla testa eeeh bene sento ma chi è? vai 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 no dai come non l'ho preso non l'ho preso ma come si fa a non prenderlo ma veramente boh lo teno sotto tiro eh bene grazie gioco di merda vabbè andiamo avanti atterro qua abbiamo due begli high drop da sopra sicuramente ne sta qualcuno vaffanculo ho preso da un cecchino ho preso da un colpo di cecchino qua ci stavo ah bene il cecchino silenziato veramente vaffanculo shield 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 non ho capito niente ci stavo cacciando furil dov'è? la mia piccola ghilletta me la sono fatta mi sento già soddisfatto ma io avevo il cecchino no dai non dimmi che ho preso ma quel troia grazie la durò questa modalità le munizie sono mie che è? vaffanculo bastardo no ok l'ho ucciso mi servono munizioni? ma io questa partita carico così com'è farò pochi tagli sicuro vabbè l'hanno ucciso troppo d'arte ma questo ha aspetta c'è c'è sa bastardo di tua madre vaffanculo va fuga tattica via fuuga tattica un cazzo oh ok ottimo succiatelo eh non mi cacate c'è qualcuno e guarda cazzo ok ma sta bene questo che ha combinato ma veramente ma dai non è mai che ne so ste cose qua quello che mi hanno fatto con il cazzo vediamo che si chiama il qua ci sono oh bene che che è stato come dai no il cecchino grande grazie c'è stato fermo ma la mia casa questo l'ha ciappato è partire singole poi è questo che singole non direi mi sento un altro sul classale al massimo a duro ok 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 guarda se a quel collone con la schiena da coso mamma che sobra un po di materiale questi avrebbero degli shield e sono fatto le mie bellissime quattro kill alla grande proprio 95 96 97 98 abbiamo vinto 99 beh che ciò a fare 100 appunto bene ritorno alla lobby abbiamo vinto 4 kill una bomba noi ci possiamo rivedere nel prossimo video